salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale l'unboxing di alcuni prodotti specifici per lui il dji mini 3 pro sono dei prodotti della skyret sono disponibili su amazon mi sono arrivati oggi sono ancora dentro la scatola di amazon quindi non li ho ancora visti nemmeno io quindi farò questo unboxing con voi e poi li commenteremo insieme perché secondo me alcuni di questi sono prodotti di cui lui ha veramente tanto tanto bisogno quindi direi di non perdere altro tempo e iniziamo l'unboxing quindi ecco qua dove all'interno ci sono i prodotti skyret specifici per lui il dji mini 3 pro quindi andiamo ad aprire il primo e vediamo cosa c'è all'interno come vedete non li ho ancora aperti sono ancora sigillati da amazon e il primo oggetto è lui il vetro protettivo per l'rc quindi andare a proteggere il display di questo controller che sicuramente se dovessimo andare a graffiarlo o rovinarlo ci verrebbe sicuramente un colpo al cuore quindi ho deciso di optare per un vetro protettivo andiamo ad aprirlo perché anche la confezione mi sembra molto interessante eccolo qua qua abbiamo il vetro protettivo ne abbiamo due abbiamo a disposizione due vetri con i due kit per andare a installare appunto questo vetro protettivo che andremo a mettere sicuramente perché trovo che sia davvero utile avere qualcosa che protegge questo display quale istruzione di montaggio quindi questo ragazzi sicuramente è un prodotto che ci vuole per questo controller poi andiamo aprire il pacco quello più grosso e vediamo cosa troviamo all'interno quindi andiamo a tagliare lo scotch di amazon ed ecco qua quindi abbiamo uno e due allora questi sono i filtri della skyrette come abbiamo detto sono dei filtri di cui secondo me ha tanto tanto bisogno perché lui sia una fotocamera incredibile ma soffre per un mio punto di vista è tanto tanto la luce soprattutto per chi come me va a volare spesso in montagna e lì la luce molto forte questi ci vogliono in questa confezione troviamo un filtro polarizzato un filtro n d 8 n d 16 e un n d 32 andiamo ad aprirli per vederli da vicino come sono fatti almeno dal punto di vista costruttivo che sposto questa che la guardiamo dopo allora abbiamo la scatoletta in plastica con un piccolo panno in microfibra per pulire ovviamente i filtri ed eccoli qua i filtri proviamo andare ad installarne uno caduto l'rc controller allora andiamo a rimuovere quello che il coperchietto di plastica originale e andiamo a provare a mettere un filtro di questi della skyret perfetto direi perfetti e questi ragazzi bisogna averli secondo me per questo drone sono davvero molto molto necessari trovate tutti i link in descrizione per quanto riguarda i filtri ne parliamo in un altro video dedicato appunto ai filtri per lui il dji mini 3 pro quindi vado a toglierlo è davvero semplice toglierli e metterli praticamente come su air 2s cioè da verso è davvero bello di mettere e togliere i filtri non come su il mini 2 dove c'erano questi filtri agganciati in qualche maniera sicuramente non una maniera diciamo ottimale però il massimo che si poteva fare visto che dji comunque non aveva pensato il mini 2 per avere dei filtri intercambiabili però c'è stata molta ingegnerizzazione per le aziende che li hanno prodotti e sono riusciti comunque a darci i filtri per il mini 2 che anche lui ha davvero tanto bisogno dei filtri nb poi abbiamo questo pacco che vado ad aprire eccola qua la valigetta skyret bella carina soprattutto per chi non ha comprato la fly more combo il kit di dji dove troviamo la valigetta con le batterie aggiuntive che di già questa volta vende separatamente rispetto al solito quindi è da acquistare separatamente rispetto al drone per chi invece ha acquistato solo il drone e magari vuole acquistare anche solo una batteria separatamente anche se attualmente acquistare una batteria per il dji mini 3 pro è difficilissimo probabilmente è più facile vincere al super enalotto devo dire che questa valigetta può diventare davvero utile i materiali dal punto di vista qualitativo non sono niente male devo dire anche l'impatto estetico davvero bella questa è la versione per lui l'rc n1 c'è anche la versione dove possiamo mettere lui l'rc controller però a tempi di consegna più lunghi comunque tutti i link sia di una che dell'altra li trovate qua sotto in descrizione è tutto disponibile su amazon però la versione per lui a tempi di consegna un po lunghi quindi ho optato intanto per questa poi proverò la versione per l'rc controller quando mi arriverà allora all'interno abbiamo la cinghia di trasporto per ovviamente trasportarlo attaccato alle spalle come abbiamo detto in questa versione ci sta lui infatti perfetto qua abbiamo due scomparti per le batterie aggiuntive mentre qua dovrebbe starci il drone andiamo a metterlo quindi vediamo come ci sta va dentro davvero precisissimo ovviamente dopo un paio di volte che si utilizza la valigetta prende la forma del drone soprattutto se il drone lo lasciamo dentro va a formare la valigetta però devo dire che è davvero tutto molto molto preciso però è davvero davvero bella qua sopra abbiamo una tasca dove possiamo mettere i cavi o qualsiasi altro accessorio e proviamo a chiuderla con all'interno tutto e devo dire che è bella no è molto molto bella sono curioso di vedere la versione per lui che sarà un pelino più grande perché ovviamente lui è un pochino più grande poi nella versione per lui mi sembra che ci stia anche il caricabatterie quindi andiamo a tirare fuori il tutto e andiamo a vedere l'ultimo accessorio per il dji mini 3 pro quindi via la valigetta e l'ultimo accessorio è questo andiamo ad aprire la confezione di amazon sempre ed eccolo qua questo secondo me è molto utile soprattutto se fatto bene adesso andiamo a vedere se è fatto bene è il blocca eliche perché comunque il dji mini 2 aveva questo blocca eliche davvero utile se lo si trasporta nello zaino in maniera sciolta in una borsa ovviamente se lo mettiamo in una valigettina come quella che abbiamo visto adesso non ne ha bisogno ma se lo vogliamo infilare in uno zaino qualsiasi quindi il drone dentro libro o in una borsa ha bisogno secondo me di questo accessorio e diventa davvero utile soprattutto perché sono accessori che non costano molto però il servizio che ci fanno è davvero molto molto importante quanto cielo fan per un prodotto del genere eccolo qua ed è il blocca eliche come abbiamo detto andiamo a provarlo quindi come si monterà questo blocca eliche allora le eliche vanno messe all'interno dei piedini quindi non all'esterno non in questa posizione vanno messe dietro poi lui va messo con questa protuberanza verso il dietro del dji mini 3 ecco qua vedete che i piedini si inseriscono perfettamente nella smancatura qua di gomma andiamo a girare il drone e andiamo ad agganciarlo spingendo il perno nella gomma perfetto direi perfetto così abbiamo le eliche totalmente bloccate un po come succedeva con il dji mini 2 solo che lì il blocca eliche era già incluso nella confezione quando lo andavamo a acquistare mentre qua siamo costretti ad acquistare un accessorio di terze parti però secondo me è un accessorio davvero utile soprattutto per il prezzo perché lui mi sembra che costa intorno ai 14 euro ma secondo me è tanta tanta roba per andare a toglierlo è davvero semplice andiamo ad aprire il bottone ed eccole qua che le eliche sono pronte e libere per volare quindi ragazzi spero che questo video in cui vi ho portato questi accessori specifici per lui il dji mini 3 pro vi sia piaciuto spero che abbiate trovato interessanti questi accessori tutti i link di amazon qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata e se volete supportare il canale acquistandoli appunto da questi link quindi se tutto questo vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime spoiler tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un test tutorial o novità ciao al prossimo video ciao